Tra le squadre più in forma del campionato di eccellenza c'è senza dubbio la folgore del Finocuri Pescara, una corazzata targata Paluzzi e Liberatore, che dopo la sconfitta di Capistrello è riuscita a riprendere il passo spedito rifilando un convincente 4-0 alla Virtus Cupello. Raggiungere i play-off è l'obiettivo primario dei pescaresi, che tuttavia devono fare i conti con l'inarrestabile corsa delle due terramane lì davanti. Sì, tantissima. Era la risposta che volevamo e i ragazzi ce l'hanno dato sul campo e siamo contentissimi di questo e speriamo di dare continuità finalmente a questi risultati. Già da Taubelica a Castelnuovo cercheremo di fare un'ottima partita perché vogliamo fare i play-off. Non solo la società ma anche i ragazzi, lo staff, il mister, tutti. Oramai ci siamo salvati, quindi c'è rimasta questa possibilità di fare i play-off e li vogliamo fare. Chiaramente con la vittoria nel derby Giulianova continua a viaggiare ad alto ritmo ed è difficile tenere il passo delle due lì davanti. Sì, dobbiamo tenere il passo assolutamente perché se riusciamo a recuperare i due punti al Giulianova ci sono 11 partite, ci sono tanti punti ancora in palio, quindi anche il Giulianova può ancora vincere il campionato. È tutto in balla, insomma.